Siamo al comune di Ponte Cagnano-Feano con Claudia Memoli, medaglia d'oro alle recenti campionati europei in Bulgaria, Ploftiv, nella specialità della scherma. Claudia, qual è la tua specialità? Raccontaci questa esperienza e questa vittoria. Sì, comunque è stata un'esperienza nuova per me perché ero già reduce di varie convocazioni, però è stata un po' più lunga anche come giorni. Quindi è stato bello condividere tutti questi giorni con persone che comunque sanno cosa fai e provano più o meno le tue stesse emozioni. Comunque questo è stato inaspettato, bello, una bella gara tirata fino alla fine, anche se ha un po' di amaro in bocca perché comunque la gara individuale poteva andare meglio, però diciamo ci consoliamo con il fatto che comunque era il primo europeo e un po' di ansia ci poteva stare, insomma. Primo campionato europeo che si conclude quindi con una bellissima vittoria a squadre. Gli allenamenti ovviamente li hai ripresi, compatibilmente chiaramente con la scuola perché ovviamente sei innanzitutto studentessa. E i tuoi prossimi impegni agonistici? I miei prossimi impegni sono pochi, quindi sono quasi finiti e c'è una gara di qualificazione mentre poi ho i campionati italiani. Grazie, grazie Claudio.